In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazareth, In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Siamo al processo religioso di Gesù. Gesù è condannato dalle autorità religiose. Oggi siamo a Nazareth, nella sinagoga, ma è chiaro il parallelo con il processo da parte delle somme autorità del Tempio. Ricordate il sommo sacerdote che, sdegnato, si straccia le vesti? Gesù è processato e condannato a portare la croce e uscire fuori dalle mura di Gerusalemme. Infatti, cosa dice il Vangelo di oggi? Si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E dove lo portano? Sul ciglio di un monte. Anche qui è chiaro il parallelo con il Golgotha. Il basso monte fuori dalle mura di Gerusalemme. Fin qui, quindi, è chiara la traslitterazione da Nazareth a Gerusalemme. Ma vediamo il finale. Dice «Lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù». Buttare uno giù da un monte significa ucciderlo. E cosa faranno poi con Gesù? Lo uccideranno. Non giù da un monte, ma su una croce. Ma non finisce qui. L'Evangelista Luca elegantemente aggiunge quella frase che, se tolta da un contesto teologico, risulta alquanto bizzarro. Infatti, come è possibile immaginare Gesù condotto fino al cima del monte per essere buttato giù e lui tranquillamente passa in mezzo a loro? Che significa che si libere e scappa? Che si mette d'accordo con qualcuno per liberarsi? Non credo vada a letto in modo letterale. Qui evidentemente Luca vuol darci il passaggio della risurrezione. Essere buttato giù dal monte e passare in mezzo a loro è metafora di morte e di risurrezione. Ora, alla luce di questa interpretazione, provate a rileggere le ultime righe. Vi accorgerete di come l'Evangelista abbia riassunto davvero il mistero pasquale di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.